Noi il 7 ottobre ci vedremo al Ministero delle Infrastrutture sotto legge del Ministro De Micheli con Rete Ferroviaria Italiana e la Regione Lazio per sottoscrivere e presentare il progetto che è stato condiviso a seguito del tavolo che abbiamo costituito nel marzo scorso, proprio tra tutti questi attori, sul potenziamento e la velocizzazione della Ferrovia Roma-Pescara. Presenteremo un progetto che mette in campo soluzioni tecniche progettuali condivise per portare il treno da Roma-Pescara in meno di due ore e rendere così collegamenti tra il terreno e l'Adriatico più efficienti, più veloci, più moderni e rispondendo a un problema ormai storico del nostro territorio. Chiederemo in quella sede ovviamente al Governo di finanziarlo adesso questo progetto perché ora che finalmente le due Regioni con Rete Ferroviaria hanno stabilito che cosa fare e come realizzare questo intervento, ora serve che il Ministero metta i soldi e che magari li trovi nell'ambito di questi fondi straordinari che arriveranno anche tramite l'Europa per rispondere all'emergenza Covid e rilanciare l'economia e noi pensiamo che questa sia una delle opere più importanti che debbano essere fatte non in Abruzzo ma in Italia.